Da quando era bambino, Flint Lockwood sognava di essere un inventore famoso. Telecomando per la televisione! Ma il problema era che le sue invenzioni tendevano ad essere un po' insolite. Oh, buccelli! Che vi succede, piccoli? Squint-quiri-quink! Ma un tipo come Flint non si arrende mai e poi mai. Flint... Ciao, papà! E un giorno fece una scoperta incredibile. Trasmutazione dell'acqua in cibo. Circuito energetico! Sì! Questo cambierà ogni cosa. Da Columbia Pictures e Sony Pictures Animation. È vero! Funziona! Se avete fame di adrenalina... E siete ghiotti di avventure. Preparatevi ad essere serviti. Mamma mia! Piovono polpette. In succulento 3D. È tutto fatto di gelatina! Nuore di Osteria, U każdy ton'è ovo' Nuore di Osteria! Spunciata! Perché l'ho fatto? COOL